Chiara Ferragni e Fedez si stanno facendo la guerra sui social Battute, commenti, dichiarazioni del rapper che ormai sembra non più interessato a tutelare la sua futura ex moglie, tanto da definire la loro relazione tos E proprio del loro divorzio parla il settimanale chi nel numero inedicola questa settimana Dopo l'indiscrezione trapelata, ma poi smentita, della richiesta di 40.000 euro per il mantenimento dei figli da parte di Ferragni, non si era più parlato del divorzio, probabilmente Dopo l'indiscrezione I due si sono affidati ad avvocati notissimi nel mondo dello spettacolo anche se non sarebbero intenzionati a una battaglia stile tos Fedez schiera nel proprio team Alessandro Simeone e Pompiglia Rossi, avvocati della Blasi nella separazione da Ferragni Invece, si è affidata all'avvocato Daniela Missaglia, la stessa che ha seguito la separazione tra Fabrizio Corona e Nina Mouric Si legge A complicare però la situazione sarebbero i loro rispettivi patrimoni Chiara e Fedez vorrebbero trovare un accordo per il bene dei figli Anche se la definizione dei rispettivi patrimoni non risulta complicare però E oggettivamente l'intricato gomitolo di società dietro i nomi Ferragni e Fedez non rendono facile il conteggio E proprio per questo, forse, è stata messa in vendita la villa sul lago di Il luogo che doveva essere il loro rifugio estivo e che avevano accuratamente